Ciao ragazzi, ciao da Nick e bentornati su The Witcher 3 Wild Hunt Allora, abbiamo ucciso quel maledetto grifone, è arrivato il momento di cavalcare a riscuotere la nostra bellissima ricompensa Intanto qui vediamo il sole che tramonta e vacci piano, gli dice al cavallino Cavallino! Cavallino, come te la passi, eh? È a posto, dice che se la passa bene, vi salute il cavallino E... oh, dice di chi è sto cavallo qua buttato in mezzo alla foresta? Boh Ah, che bello, tranquillo, oh no, di qua non mi piace, qua c'era il... No, 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 là sotto c'era il mostro cattivo Che livello sono io? Livello 2? No, 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 c'è il mostro cattivo, aspetta Mi è venuta un'altra idea, ragazzi Qua c'è il viaggio rapido Oh, ma chi è quello? Non l'avevo mica visto Paisa, che stava a fare? E che c'è ora? Niente, stavo a chiedere come te la passi Vabbè, lasciamo perdere, va Dunque, cavallino Allora, viaggio rapido Ah, buongiorno, andiamo a riscuotere le finanze, aspetta Io quasi quasi mi faccio un pisolino qua Mi faccio una bella meditazione Adesso, fino alle 6, fino alle 6 va bene Un paio di ore, cosa è successo? Ho usato alcol Boh Allora, dai, smetti di preghiare E andiamo sopra, va Allora, chiaramente, ragazzi No, mi devo imparare Che vuole questo? Allora, chiaramente Come stop? Aspetta, mi ha detto stop, che è successo? Ok, che è successo? E che morisce a me? Oh, oh Aia Aia No Aia Una po' di frustata Ragazzo Non è che mi vuol dare pure a me O aria frustata, vero? Ho ucciso il grifone Eh no, lui voleva il grifone Eh, tetta per tetta Ah, ma che vuole questo? It's yours This gold I would not want you to say You were Inadequately compensated Ah, perché decisione rapide? Eh, ci voglio pensare Una mezz'oretta, no? Li piglio sti soldi O li rifiuto? Ehm Li rifiuto Io faccio capire Che è un pezzo di Non li voglio Fanno schifo Perché tu fai schifo? Dagliela a quel poveraccio Dagliela a quel poveraccio Che si piglia i frustati Dov'è? Aia Madonna Sento le urla Dov'è? Mamma mia Dov'è che lo sta Dov'è il tipo Dele frustate? Non lo trovo mica Boh Oh Sento le frustate Ma non lo vedo Non erano 15? Già hanno finito? Vabbè Allora io vorrei Mo' capire ragazzi Ehm Riguardo Al cibo Ho bisogno di cibo Ok Ho rifiutato i soldi Potevo comprarci un po' di cibo Questo va bene Ma un mercante di cibo No? Eh non rompere dai Se qui per que Ehm Vediamo se me può forgiare qualcosa Si Nella parte sinistra Non vengo dai schemi che il tuo possesso Ok I schemi Nella parte Nella schermo c'è una descrizione All'oggetto selezionato Ragazzi io penso Che allora Non ci capisco molto Perché giustamente Diciamo Non mi va di perdere molto tempo Perché poi magari qualcuno Si annoia possibilmente Se ci metto troppo tempo Ma è anche giusto Che io devo un pochettino Vedere la situazione E rifletterci O quindi sto pensando adesso Che magari le parti in cui Cioè cerco di imparare un po' Le parti più lente Senza che le registri In modo che comunque Nessuno si annoia Perché ovviamente Io non voglio Che la gente si annoia Però Queste sono parti importanti Del gioco E devo ovviamente E devo impararle In un modo o nell'altro Quindi magari Finito questo gameplay Mi passo un po' Il tempo A vedere come funziona Tutta sta roba qua Va In modo che nessuno Si annoia Ma allo stesso tempo Perché se non Se non Crea oggetti nuovi Se non miglioro L'equipaggiamento Ovviamente Nick Non può andare avanti Nell'avventura Perché si farà Menare Sempre da tutti No Perliss Ah Use tavoli da lavoro Oh Quindi ok Ci clicco Ah ok Beh questa è una cosa semplice Clicco sul tavolo Per 15 minuti Ho un potenziamento All'armatura Questa è una cosa positiva Cosa fa questo Ma io il cibo Lo posso pigliare No ma neanche Lo posso prendere Minimamente No Allora Va bene Però comunque È necessario Che io trovo Del cibo A meno da comprare Oh È qua vicino Ho visto le urla Ah ok È là dietro Poveraccio Po Merci Merci Ho sciamperto No va Tanto Allora Dove Caspita Compro Ah però Aspetta Ho un'idea Sì Stai zitto Scusi Ok Qui praticamente Nessuno vende niente Vi pigliamo un po' Il viaggio rapido Vediamo un po' Se posso andare In un paese Diciamo Una città Chiamatelo un po' Come vi pare Insomma Lilla E uva spina Ok Quindi lì è dove Teoricamente Devo andare Ma io vorrei Vedere Dove altri Altri posti Dove posso andare Ok andiamo Nel punto in cui C'è la missione Allora prima Della missione Chiaramente Nick deve comprare Urgentemente Del cibo E forse che Già ho trovato Il posto giusto Ci rivediamo Ah il tipo Che ho salvato Mi fai qualche sconto E così è Oh qualcosa Nick c'ha Guadagna E come no Fammi un po' Vedere Oh cibo Cibo Dai Forse siamo Fortunati Cos'è sta roba Kit di reparazione Per armi No Per ora no Pelle 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 Cos'è Cotone Vabbè per creare Spago Ok Liquore No Ah bottiglia Oh ok Rigenera vita Ma E se Meno male Che ha Ma da prezzo 82 monete Devo Devo morire Di meno Ok Boh Comunque Grazie tanto Compa Stamme Ebbene E la prossima volta Fammi Ancora più Metà prezzo Perché tanto Metà Non mi sembrava Allora Devo capire Sta storia No Devo comunque Un pochettino Capire Come funziona Perché Almeno Come creare Le pozioni Le pozioni Del gatto No No Ok Che è sta roba No Dov'è 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 Le cose Queste Per curarmi Cioè Almeno Capire Come Quanto Meno Quanto Meno Non ci capisco Niente Niente Da fa Oh No Non mi dire Che si è bloccato Ah ma Eh Meno male Raga Ma che cosa c'è qua Per terra Pare sangue Pensavo che fosse Potevo vedere Qualcosa E quindi Insomma Ragazzi Niente Volevo capire Come si Crafta Magari Appunto Come magari Si potesse Craftare Un po' Di cibo Qualcosa Insomma Pozioni Curative Aspetta Con chi è che devo Parla Ah Devo parlare Con il cicciolino Qua Allò Gomba Che cosa Che non Gomba Oh ma Dai E Cus Chi sono Che voglio Oh 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 Non vedo Niente Niente Guardi Guardi Sì 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 E E Meno male No No Io volevo Meno le mani Ma perché Signora 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 Abbiamo fame Abbiamo fame Signorina Che 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 chi? ah lo stemma dell'altra volta raga ah guarda questa che lingua che c'ha si prendono la mia sorella e le prendono fuori dal cloistro come un uomo ha detto che Nilfgaard non è un posto per superstizione che non fanno la morta dei duelli e tu? ti fanno? se non per l'Annie il tuo figlio avrebbe avuto sull'estrino e tu non fanno la mia sorella e tu non fanno la mia sorella non fanno la mia sorella tu non fanno la mia sorella ah mazza ah mazza oh oh mo so cavoli non volevo lo scontro e lo scontro sta arrivando sempre per colpa di una femmina mi hai un po' di sangue pure ok ragazzi è arrivato il momento di manare le mani no problema no problema ok Nick Nick fuoco ti spacco tutto ti spacco pezzo di merda combatti da uomo guadà abbiamo finito? guadà e via la testa l'ha persa per Nick che schifo abbiamo portato un po' di dolore in questa taverna mi sa eh non è colpa nostra è finito un cavolo che ti ho fatto di male dai che schifo che è schifo chiedo scusa sono stato un po' troppo aggressivo ebbè mi zica ma 7 puntano un'arma alla gola quasi quasi che fanno difendi legittima difesa speriamo che fuori non ci stanno altri 5 ti e te pareva te pareva facile vero? izzica però non è la tipa che stavamo cercando non è Jennifer già deve essere la tipa quella nuda all'inizio del primo gameplay dove sto sanno? non è una vasca di banio che freddo c'è? che freddo c'è? c'è uno che è ehm ammazza che è un uomo complicato la fiamma bianca che danza sulle tombe sulle tombe bene certo certo ci sono un po' uccidere il tuo nemico fatelo diventare amico ma bene no speriamo che io lo incontri Mamma mia che nome complicato Che è bloccato? Ok, siamo tornati al punto del blocco, speriamo che non si blocca di nuovo E siamo fortunati che non si è bloccato Purtroppo ogni tanto questo gioco si è bloccato La scheggia E a lei gli piacciono le mura? Ho ricevuto 150 punte experience Mi pare Fatto da una pulita Pieno di sangue Io niente, manco una goccia A posto Allora si va da sto tizio qua Che ha 6-7 nomi tutti di fila È notte, è tranquillissima Mi fa venire in mente la serie quella Merlin Già È vedere troppo bella È brava Solo all'inizio Ma poi Ma poi mi pare che già ora non si mette bene Mi pare che già ora non si mette bene Attenti Ma che cacchio Aia Mi sa che questi sono un po' cattivi però E che cavolo dei cavalli c'hanno? Oh, così veloci Ce li hanno dopati Questi c'hanno i cavalli dopati, raga Per forza A posto Mi sa che mo' ha nicchè Il ponte Distruggiamolo A posto Non hanno i cavalli con le ali, vero? Meno male Oh, mazza Oh, che bella città però Mi piace Mi piace Ma che stadi? L'abbiamo trovata Ma l'abbiamo già incontrata Ma che sta a dire? Ha saputo che si trova a Vizima Ma se io sto pure a lavare braccia No, non è Non è No Però comunque se la sta passando bene Geroth Su questo non c'è dubbio Hai capito? Ecco, già questo però Mi pare che non ci sta Dice basta Dice basta Arriva il tizio che ti rovina il divertimento Che è? Vai via Fai schifo Hai capito? C'è prima che incontri Ecco Non hai capito? Quello è troppo imbottante Eh, non puoi dire Su quella sedia Pure a babba Che devono fare? Taglio di capelli Barba Perché non ti piace? Che pido occhi? Ma non mai vendono i prodotti Quello per il cane Gli mettiamo due gocce su sta barba E ci vuoi Hai capito? Mi sto preoccupando La schifo da babba Già l'avevano inventata A quel tempo Come va? Preparazioni per l'audience Procedendo come plan Sì, general Il gentleman Sarà più o meno Presentabile Chi è questo E' una schifo da babba E' una barba E' una barba Ah, la schifo da babba L'avevano però Ce l'avevano, hai visto? No Mourvran Vouryis Comandante dell'alber Divisione L'escorto di Yennefer E' erano i miei Tutti Hai capito Inoltre E' ero Perché nessuno Ha tornato A Vizima, non? Non ho capito C'è vero 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 E' Razor A tua throat Vabbè ragazzi Io direi che Ci fermiamo qui Con questo gameplay Eeeh Continueremo nel prossimo Episodio Scopriremo un pochettino Che cosa c'ha da dirci Sto tizio Quindi ragazzi Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su E ci becchiamo presto Nel prossimo video Ciao Alla prossima raga